Chi c'era di aspettare sul portone? Del paradiso quando si è arrivato, San Pietro abbandonato e il portierato, del condominio senza confusione, al posto suo con fracche di gastone, Petrolini con l'occhio all'ampanato. Gli chiede a G. E Mocchi ha ereditato Fortunello Gastone e poi Nerone, Renato Alberto Aldo Zitti Zitti, con Mario e con Vittorio e una corona, fatta di fiori di zucchine fritti. E la con mare secca sta a guardare, e pensa, sto romano mi cogliona, e te ne fai. Ma non me romperca 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 Numerò per caro